Ciao, come ti devo chiamare? Emiliano, Emi, Emis, basta che non mi chiami Chilla che non mi piace molto Importante che mi chiamate Jake e non Jack Ma come si chiama davvero l'altro? Jake Lafuria Emi Schilla Voi rapper avete tutti dei nomi d'arte? Direi di sì Il titolo di studio? Terza media Quanti anni hanno in media i tuoi fan? Dai 18 ai 25 E le tue fidanzate? Ah ormai ho peso le palle al chiotto Sempre ho avuto ragazze più grandi Se il successo finisse, che lavoro vero faresti? All'Unicredit col passavontana Se un giorno finissi tutto dove vorrei andare a non fare un cazzo Che lavori hai fatto prima di diventare famoso?